Cari connazionali, cari amici dell'Italia, mi rivolgo a voi anche quest'anno per celebrare insieme la ricorrenza della Festa della Repubblica. Nel 1946 le donne e gli uomini d'Italia fecero una scelta netta per quei valori e principi che sono al centro della nostra Costituzione, così come della nostra appartenenza all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica. Valori di libertà e democrazia il cui significato ci appare tanto più prezioso oggi, mentre prosegue il conflitto in Ucraina nel cuore della nostra Europa e inaccettabili forme di violenza verbali e fisiche si insinuano nelle nostre società. Siamo ancora tutti scossi per il vile attacco cui è stato oggetto il primo ministro della Repubblica Slovacca Robert Fizzo e desidero richiamare le parole con le quali le autorità italiane hanno condannato l'attentato, esprimendo i sentimenti di massima vicinanza e l'augurio di un pronto ristabilimento. Sentimenti che trovano fondamento nella profonda amicizia che lega l'Italia e la Slovacchia, un rapporto fatto di persone, partenariati economici e radici culturali condivise. Anche quest'anno sono state numerose le opportunità per cementare ulteriormente tali relazioni. A partire dalle due visite effettuate dal ministro delle imprese del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, e da quella del sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi, oltre alla missione del contingente italiano che si è conclusa recentemente a protezione dello spazio aereo slovacco. Nei prossimi giorni la città di Poprad ospiterà il quinto raduno europeo degli Alpini, un grande evento che rappresenterà una vetrina importante per il nostro paese e nel cui ambito si svolgerà un'esercitazione congiunta con i colleghi slovacchi nel settore della protezione civile. Desidero inoltre menzionare anche in questa occasione lo straordinario lavoro che effettuano quotidianamente le nostre imprese, che contribuiscono allo sviluppo del paese con i loro investimenti, l'innovazione tecnologica e la loro cultura manageriale. Di tale impegno ricevo continua attestazione di stima da parte dei miei interlocutori slovacchi, così anche con riferimento ai programmi di diffusione della lingua italiana e della nostra presenza culturale. A tale ultimo riguardo ha preso inizio dei giorni scorsi la diciassettesima edizione del Festival Dolce Vitae, con un fitto programma che potrete consultare sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura. Vi ricordo infine l'importante appuntamento delle elezioni europee. Troverete sul nostro sito tutte le informazioni per l'esercizio del voto presso il seggio che sarà aperto in ambasciata venerdì 7 e sabato 8 giugno per i cittadini italiani iscritti all'aere in Slovacchia e per coloro presenti temporaneamente nel paese e che hanno chiesto, entro la scadenza prevista, di poter esercitare il voto presso l'ambasciata. L'esercizio del voto, cui l'ambasciata d'Italia Bratislava è onorata di poter contribuire, è un momento fondante dalle nostre istituzioni democratiche e richiama le aspirazioni delle donne e uomini che espressero la propria scelta nel giugno di 78 anni fa. Buona festa della Repubblica! Viva l'Italia! Viva la Slovacchia!